Mia madre mi ha sempre detto che il matrimonio è la soluzione per tutti i mali. Ci sposiamo, abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata. Dove vai? Sbritti, la fermo. Ma lo senti come pari? Abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata. Ma che siamo? Un ristorante, cazzo. E questa persona risolverà tutti i tuoi problemi. Perché è che mette in giro questa voce? Sento un gelo in tutto il corpo. Come svenire da svegli. Disturbo? Permesso. Succede quando hanno stato il discorso. Beh, almeno lui non ha il terrore di perdere tutto ciò che ha. Tu si. Amori già finiti Con la gioia e col dolore Della gente come me Un mondo Non si è fermato mai un momento La notte segue sempre il giorno E la tua vita, Sardo. Guarda bene tu. Ed il giorno verrà Ciao! E la tua vita, Sardo. Oh! Ah! Grazie a tutti